allora ah vedo con piacere che le stats sono bassine allora 12.205 di HP 11.388 di attacco solo 6.788 di difesa che vuol dire vuol dire che ad abiti free abbiamo 8.788 poi è fisico fisico vuol dire che full non ha manco 5.000 di abiti c'è una 4.600 tipo mi pare quindi sfioriamo giusto giusto gli 11.000 a qualcosa ad abiti full vabbè allora poiché io purtroppo il giapponese non lo so leggere andrò a recuperare la traduzione anzi facciamo una cosa poiché Toppo è il piatto forte della giornata vediamoci prima il rete summon di cui io non ricordo neanche il nome zero proprio mi ricordo quello che faceva tipo che cambiava forma in base all'esigenza velocità tipo forza è cosa che fa anche nell'animazione se non sbaglio allora andiamo a recuperare un attimo la scheda di costui e capiamo come si chiama perché allora si chiama cato catopesa catopesa catopesla deoxys catopesia buh non ci interessa costui costui è il leader defender of justice 630 e 3 ki abbiamo race attack great race defense per un turno supreme damage e sila quindi kaioken all'attacco è 50% di difesa per un turno non brutto diciamo peccato che c'ha 4830 watt di difesa questo sembra carino però bisognerebbe fare due calcoli chi più te chi più te senza te for nation apple allora chi più tre attacca in def 300% boh cambia le orb str in agl e lui è tech ok boh lancia due additional con alta chance che siano special alta chance di evadere difesa 30% per orb agl prese per un massimo di 300 interessante ma durante il primo il terzo il quinto il settimo e il nono turno quindi nei turni dispari cioè vedi un po' a che cosa siamo arrivati siamo arrivati che devono devono fare le cazzate anche con i turni pari e i turni dispari allora quindi nei turni dispari costui si aumenta del 30% della difesa per ogni orb agl che prende che lui cambia cambia le str in agl ok poi cambia le agl in str cioè l'inverso ok e 70% di chance di lanciare una additional special con 70% di chance di grittare e 30% di attacco per ogni orb str presa senza limite però nei turni pari quindi nel secondo nel quarto nel sesto nell'ottava nel decimo turno se vai oltre ti fotti io lo chiamerò U-man U-man allora eh ma cosa succede dopo cioè dopo questi dieci turni che fa lo devi buttare non serve più a niente anche questo 300 no 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 non è scritto oh no no l'attacco puoi via pure 23 orb perché rispetto al al ringo precedente c'è punto e virgola quindi quindi puoi effettivamente prendere 23 orb e per ogni orb prendi 30% di attacco controllo la carta ah qua dici ah è vero è tradotto male qua no qua c'è scritto 300 è vero ah quindi massimo 10 ok qua qua non c'è scritto babù quindi sì tra parentesi 300 quindi anche l'attacco è limitato a 300 babù peccato poteva poteva fare più danno invece poi un addizionale attacco indef 33% al lancio della special da calcolare separatamente attenzione cambia le orb agl e str in tech e attack and def 30% per ogni orb tech per un massimo sempre di 300% a partire dal settimo turno ma quindi va in contrasto non sto capendo cioè al settimo all'ottavo al nono e al decimo turno ha ancora le fasi in cui cambia le orb giusto ma contemporaneamente cambia le agl e le str in tech a partire dal settimo turno non sto capendo perché come cazzo non ho scritto o ho scritto o ho tradotto male qua o che ho fatto col culo sarebbe da provare effettivamente perché se poi dal settimo turno ha sia un effetto nei turni dispari sia un altro effetto nei turni pari e poi contemporaneamente prende 33% dalle orb tech eh però devi scegliere effettivamente perché o prendi le tech e ti boosti entrambe le stats o prendi le agl nei turni dispari o le stl nei turni pari cioè non puoi pigliare due orb diverse o pigli uno o pigli l'altro boh che pigi strano però mi piace cioè nel senso a me queste cose strane mi garbano poi magari in pratica sarà un pigino in merda da giocare però insomma ci provano almeno ci provano link eh speed retributation retribuation vabbè come cazzo si chiama questa link di merda shocking speed hero of justice signo turposo tournament of power fies bat bello cateco universe vabbas saga transformation boost special pose defender of justice accelerative battle tournament partecipante caruccio però secondo me le stats non sono per niente dalla sua parte non vediamo nessuna guardia non vediamo nessuna riduzione del danno è un pg solo basato sulle stats sul fatto che deve nucare male 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 niente di che quel 300% è solo per ingolosire ma a conti fatti la chiavica era meglio fare un altro buffer a questo punto vabbè torniamo a top top proviamo a consolarci allora top ne parlavamo prima per il discorso della lr della seconda parte di metà mese quindi lui è leader special pose e tournament partecipant allora la categoria tournament partecipant è una sottocategorie cioè è già di persino una sottocategorie anche se non propriamente una sottocategorie del del torneo del potere perché poi all'interno di questa categorie ci stanno altri pigili di che hanno partecipato ad altri tornei compreso la selsaga compreso i world tournament quindi qualcosa di caruccio può uscire non è una brutta categoria a me piace tournament partecipant uno dei motivi per cui mi piacevano anche gli androidi in combo con special pose special pose non impazzisco per questa categoria in generale però se mi troppassero veramente un grezzaio me ne rotto in culo ma lascia comunque il tempo che trova nei categori abbastanza così categori che però comprende i gamma quindi tutto sommato ti danno un nuovo leader dove puoi metterci gamma e puoi metterci le seste anniversarie ad ezzo per dire babbo i 30% di questa di questo leader sono defender of justice final trump card e space traveling warrior su tre oh e dai che c'hai la smetti non ti prende in braccio perché mi fai una chiavica mi riempi di peli no niente vuole venire in braccio dai fai la brava dopo dopo giochiamo un drum brava che è dopo sconciato tu queste cose non puoi farmele vedere che ci posso fare un canno grazie opinion per i quattro mesi ho perso il filo ah si le categorie eh boh ste categorie ste categorie che più del 30% bisognerebbe andare a vedere singolarmente quali sono i final trump card che stanno in un tournament partecipano quali sono gli space styling quali sono poi dall'altro lato quali sono gli special post immagino gothanks gothanks final trump card potrebbe essere un bg che piglia la 200 motivo motivo per cui potrebbero droppare anche un gothanks lr piuttosto che great siaman però great siaman di per sé è anche defender of justice quindi potrebbero sia droppare un gothanks sia un great siaman uno dei due con la special grittris attack and death per un turno immense damage bello pulito senza troppi fronzoli e fa quello che dovrebbe fare una special nel 2024 ovvero raisare 50% attack and death benissimo passiva entrance trance animation che si attiva se ci sono due special pose o defender of justice ah non due tournament participant due special pose o due defender of justice uno e uno non va bene cioè tipo se metto un defender e uno special pose si attiverà o ne servono per forza due di una delle due ciao marco buon appetito ti invidio vorrei anch'io mangiare vedremo vedremo quando lo potremo provare se si attiva con uno e uno oppure devono essere per forza due di una delle due e cosa attiva questa entrance animation attiva una riduzione del danno dell'11% extra per tutta la battaglia e una guardia per tre turni beh buono attacca and death 200% un addizionale 150 di attacco al lancio della special da calcolare separatamente una damage reduction fissa del 20% beh buono buono perché giocandolo col team sono 20 più 11 già stiamo a 31% di riduzione del danno cambia le orb int in fisica quando siamo super 50% di hp orb int in fisica fammi pensare un po' chi è che ne beneficia a parte lui stesso di sta cosa orb int in fisica broly e cilai e lemo nel team super boss la prima cosa che mi viene in mente nel team super boss broly cilai e lemo per pigliare sempre il più possibile sette orb e farlo evadere oltre che baffare babù chi più un attacco indef 30% a tutti gli special pose defender o justice alleati ok quindi anche un buffer caruccio poi se è primo 200% 200% di difesa extra con guardia attiva e difesa 50% extra da calcolare separatamente quando riceve un attacco vabbè tutta la vita primo ma tutta la vita primo cioè io mi monto il team come si deve montare 31% di riuscire del danno 230% di stazza all'inizio del turno più 200 se è giocato primo quindi sono 400 430% di difesa poi subisce un attacco con la guardia si buffa del 50% di qualcosa separatamente poi post attacco si aumenta la difesa fortissimo è buonissimo difensivamente è un muro tralasciando 6788 di difesa ma bisognerà fare i calcoli per capire quanto arriva e come se la cava secondo me se la cava bene guardia attiva 430 di stazza più 50 con colpo subito più 50 al lancio però questo è il giocato primo giocato secondo terzo invece ha un'addizione attacco in def 100% solo al lancio della special che ti dirò ad abiti potrebbe anche avere senso non hai la guardia fissa però hai comunque 31% di ruzione del danno nel team montato apposta per lui questo è da calcolare link 5 6 7 8 9 10 11 categori 11 categori però con questi link insomma in zoom active si trasforma ok vediamo la forma deformata eccoci per trasformarsi dal dal quarto turno con uno special post o defender justice nel turno nel team scusatemi ok quindi dal quarto turno si trasforma oppure oppure se non avete né uno special post né un defender justice dal sesto special massivi resi attacca e resi defense per un turno quindi 100% di buffa l'attacco e difesa 30 ok si nerfa un pochino dal punto di vista difensivo per avere più attacco chi più 3 attacca in def 300% 250 d'attacco al lancio vuoi incazzato nero questo fa tantissimi danni difesa 100 quando riceve un attacco cambia l'orbind in rainbow buono per rosè per rosè è buono questo guardia attiva ok un sollievo damage reduction 80% però si nerfa la damage reduction del 8% per ogni attacco subito per un massimo di 60 vabbè ma stai coperto penso alla fine bisogna vedere quanta difesa raggiunge però alla fine con guardia 20% di damage reduction bene o male si tank abbastanza bene l'80 l'80 è proprio un ok mi trasformo c'ho 80% di riduzione del danno non mi fa male nulla e poi man mano prendo i danni sarebbe da provare allora primo turno dell'apparizione nullifica le special key blast vabbè si le special energetiche le nullifica nel primo turno in cui appare ah no dal primo turno scusate dal primo turno in cui appare c'è questa nullifica scusatemi ah ecco cambia la chance primo turno garantito dal secondo turno in poi alta chance che minchiata questa è una minchiata in più all'11% di dire dell'entrance e se la porta dietro quella domandona se la porta dietro dal dalla fase precedente secondo me no secondo me non se la porta dietro non avrebbe senso cambia qualche link si perchè diventa dietro dell'istruzione quindi c'ha supreme warrior tough and nail shocking speed solid support godly power tournament of power fierce bat vabbè poi ha un'altra active condizione dal sesto turno quindi se lo giocassimo senza special pose e defender justice nel sesto turno lo trasformiamo e in quello stesso turno che lo trasformiamo abbiamo anche l'active in teoria comunque dal sesto turno abbiamo anche l'active che massivi resta attacca temporaneamente altrimenti damage critico garantito per il resto della battaglia non male difetto di questo topo non vedo additional però almeno è fisico quindi potrebbe droppare droppare un additional di abiti però poca roba peccato un ad garantito sarebbe stato sul pezzo perché tra l'altro si aumenta anche le stats con le special quindi avrei gradito un ad garantito è un piccino primo slot no indubbiamente da primo slot funziona mi sembra almeno apparentemente che per quello che abbiamo letto dovrebbe funzionare ma toccherebbe fare i calcoli i calcoli con le stats i calcoli con i link bisognerebbe vedere con chi gioca all'accanto diciamo che la situazione Buddy non è a suo favore in questo momento poi se mandano ad Ezza top int oppure mandano ad Ezza un eventuale Jiren la situazione potrebbe cambiare un pochino ad oggi giocarlo con top str ci giochi kefl accanto kefl accanto che gli da tornamento power face battle basta shock speed c'era kefl non mi sembra non lo so non mi ricordo andiamo a gondola questo è il vecchio top con cui penso linkerebbe bene ma sinceramente non credo ne valga la pena ad oggi kefl due link insomma c'è indubbiamente potrebbe funzionare lo stesso però su due link ad abiti free sta intorno ai 600k di def comunque full e mortale 600 ma hai calcolato post special comunque con riduzione guardia cioè ci può stare secondo me funziona abbastanza bene non mi dispiace forse rimane un po' il rammarico vi ripeto per per l'assenza di ad garantito però mi sembra un bel pg mo starebbe da capire vale la pena giocarlo doppio oppure ne basta una copia e si gioca con con doppi android gli android sono molto più di supporto però non sono facilissimi da far funzionare secondo me non sempre hai tutte le orbite disponibili invece doppio dopo potrebbe funzionare addirittura potremmo come sempre fare la l'azzardo incredibile di giocare uno trasformato e l'altro no perché in quel caso avremmo questo base da giocare primo l'altro da giocare secondo e in quel turno stai super easy potrebbe funzionare sarebbe da provare quelle da provare di giocare